La situazione dei contagi sembra essere sfuggita di mano in Irpinia. La curva, con la sua recrudescenza improvvisa che ha mandato all'aria tutte le previsioni dei tecnici, continua la sua risalita, tanto da portare ieri il ministro Speranza a riformulare l'appello alla prudenza. La pandemia non è finita, bisogna portare le mascherine al chiuso e poi continuare a fare le dosi. In Irpinia questa mattina il bollettino ASL riporta un'incidenza pari al 19,58%, con 816 casi e 4166 tamponi processati. Un invito alla cautela è condiviso anche da Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, che già qualche giorno fa aveva avvertito che le mascherine al chiuso andrebbero tenute almeno fino a giugno. Omicron 2 ha una potenza infettiva superiore a tutte le sue sorelle maggiori, questo associato ad esempio ad una bassissima percentuale di vaccinazioni pediatriche, come è successo anche in Campania e in Irpinia, aumenta la circolazione in maniera prepotente. Sulla popolazione pediatrica, nella fascia 5-11 anni in Irpinia, aggiornata, sono 23.000 i bambini che possono ricevere la vaccinazione. Ad oggi solo il 49% è vaccinato. 50,49% con la prima dose, pari ad 11.000 ragazzi, il 44,12% con la seconda dose, pari a 10.000, e i ricoveri aumentano in due unità. 56 tra Moscati e Dariano, ma la paura è che con contagi così numerosi, tra qualche settimana anche le persone bisognose di cure mediche aumenteranno. Ad Avellino i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 106, 51 ad Dariano, 32 a Mercogliano, 36 a Montoro, 33 a Solofra. Senza contare la Pasqua alle porte, dove incontrare i parenti potrebbe rigenerare la stessa situazione già vista a Natale.